Musica Oggi 5 marzo presentiamo la prima conferenza del Mappu, un museo di arti primarie, nella sala Stevenson del British Museum. È una conferenza che parla di linguaggi, che parla di altre culture, che parla di connessioni tra i popoli, connessioni costruite attraverso il diritto che le persone e i popoli hanno a fare memoria per fare futuro, a rispettare le proprie radici, le proprie tradizioni, la propria storia. Il diritto alla cultura è un primo diritto inalienabile. Non è un diritto scontato, è un diritto che bisogna difendere. Ci sono persone che per questo diritto hanno perso la vita. Noi oggi, esattamente a 5 anni dalla morte di Nicola Caripari, il nostro agente italiano ucciso a Bagdad il 4 di marzo, esattamente di 5 anni fa, in memoria di Pietro Colazzo, morto qualche giorno fa, qualche settimana fa a Kabul, vogliamo aprire questo evento culturale, proprio perché siamo orgogliosi di appartenere a quel popolo che anche con il sacrificio di eroi normali come Nicola Caripari e come Colazzo contribuisce a difendere questo diritto primario, il diritto alla civiltà.